amici e amiche carissime bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi e la sana dottrina cattolica che ci sta accompagnando in questo viaggio dentro la nostra santa divina fede iniziato il 2021 speriamo sotto i migliori auspici faccio i miei auguri a tutti e intanto entriamo in questa tredicesima puntata di questo ciclo di catechesi come sempre faccio sempre una piccola un piccolo riassunto delle puntate precedenti fino adesso abbiamo visto della sana dottrina cattolica fondamentalmente il sacramento del battesimo il primo comandamento e ciò che è collegato al sacramento del battesimo cioè il peccato originale e evidentemente collegato al peccato originale dato che l'uomo lo ha fatto su istigazione dei diavoli abbiamo toccato il tema degli angeli decaduti quindi il problema del peccato originale degli angeli evidentemente la prima puntata che è un po il fondamento di ciò che vogliamo dirci in questa serie è stata la divinità di gesù cristo la nostra fede cattolica si fonda sul riconoscere gesù come dio un adulto per essere battezzato fermi restando tutti quanti evidentemente i cammini catecumenali non neocatecumenali e catecumenali cioè catecumenato per gli adulti che le diocesi opportunamente e lodevolmente fanno fare candidati ma di per sé un adulto per essere battezzato basta che creda veramente che gesù cristo è il signore cioè è dio a gloria di dio padre e può essere battezzato poi certamente è ovvio che la chiesa deve curare anche la formazione la preparazione il percorso insomma perché i sacramenti vanno amministrati ma bisogna amministrarli anche con una certa cura non con una certa attenzione ora dovremmo fare un piccolo step ulteriore il piccolo step ulteriore sarebbe di affrontare un altro grande sacramento perché bene affrontare il sacramento del battesimo che riguarda il peccato originale affrontare un altro sacramento che ci rimuove i peccati non originali ma i peccati attuali che al sacramento della penitenza per poi continuare il viaggio dentro i comandamenti è chiaro però che per affrontare bene questo sacramento cioè il sacramento della della penitenza questo sicuramente un discorso che ci prenderà qualche puntata c'è un uno step diciamo così assolutamente necessario e propedeutico oggi più che mai necessario propedeutico cioè che è un discorso sulla diciamo così concezione cattolica sul concetto di peccato che cos'è un peccato opportunamente ecco noi siamo sempre il nostro signore io vedo sempre come ci precede ci accompagna ci aiuta ci segue no proprio durante la santa messa di oggi ecco chi c'è stato avrà sentito le bellissime parole della prima lettura dell'evangelista san giovanni parlare chiaramente dice guardate che chi commette il peccato viene dal diavolo perché il diavolo è il peccatore fin dal principio e gesù cristo è venuto sulla terra per distruggere le opere del diavolo cioè i peccati noi abbiamo appena celebrato il natale il nome gesù significa yahweh salva da cosa da questo e chiunque è stato generato da dio continua san giovanni non commette peccato attenzione dicevo già nell'omelia di questa sera non non commette peccato nel senso come molte persone che pensano di essere immacolati cioè di non commetterli veramente i peccati ma questo dipende dal fatto che non li sanno riconoscere ma non commette peccato perché una persona che veramente è rinata ed è generata da dio e ha interiorizzato bene che cos'è il peccato e quale follia è il commettere ma non lo fa nemmeno se è morto facevo sempre nell'omelia di questa sera l'esempio della santa patrona della città dove sono nato cresciuto e vissuto che è sempre nel mio cuore che è latina che è santa media corretti che diceva al suo aggressore che voleva spingere all'impurità dice guarda questo è un peccato orribile io non commetterò mai tu se lo fai te ne vai all'inferno ma io questo non lo commetterò mai per farmi quello che vuoi io non lo faccio questa cosa qua vogliamo vedere facciamo subito una piccola provocazione quante ragazzine oggi hanno la stessa coscienza di santa maria corretti insomma sarei molto felice che fosse molto molto diffusa ma sappiamo bene che purtroppo non è così allora questo per dire il sacramento della penitenza può essere compreso e ben vissuto solo da chi ha riscoperto il senso del peccato papa pio XII nei lontani anni cinquanta papa pio XII come sapete è passato alla miglior vita nel 1958 quindi si stiamo parlando ormai di quasi 70 anni fa oltre 60 anni fa è tanto tempo già in quei tempi quando non si poteva assolutamente immaginare d'accordo perché negli anni cinquanta la situazione storica rispetto a quella attuale c'era un abisso d'accordo non perché non si immaginavano che cosa fosse il coronavirus ma per tante altre situazioni eppure pio XII diceva che la più grande tragedia dell'uomo contemporaneo era l'aver smarrito il senso del peccato io vorrei tanto come dire sapere se fosse possibile quanti fedeli battezzati hanno un buon senso del peccato questa sera quindi cercheremo di vedere che cos'è il peccato chi è che mi dice che una cosa è peccato o non è peccato che cosa succede a una persona quando commette il peccato eccetera 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 allora se sono le definizioni basta che uno apre il catechismo della chiesa cattolica il peccato di per sé se uno volesse dirlo proprio in parole semplici quindi non usando diciamo così termini catechistici usando un linguaggio per farsi capire peccato è uscire dall'ordine stabilito da dio guardate che ogni volta che si esce dall'ordine sono problemi facciamo un pochino di esempi subito subito la temperatura del nostro corpo ormai siamo diventati esperti a 37 gradi non può essere 35 né 39 è 37 se qualche matto vuole pensare che la temperatura corporea normale sia 39 quindi si trova degli stimolanti per farsi venire la febbre si accomodi ma è fuori di testa uno che fa così perché la temperatura corporea è 37 punto e basta d'accordo se questo equilibrio questo ordine si altera che succede sto male abbiamo noi il potere di stabilire che no io voglio che il mio qui il mio equilibrio è 39 capito a me non me ne importa niente fallo poi vedi come stai d'accordo la pressione sanguigna la pressione sanguigna quant'è 120 80 questo è andato conoscono più o meno tutti quanti no se la pressione si alza o si abbassa che succede quindi si viola quest'ordine no un ordine naturale per cui il mio corpo funziona bene se le cose stanno così sto male d'accordo che cos'è un virus adesso tutti canti terrorizzati dal dal virus che cos'è è un agente patogeno è un agente patogeno che entra dentro di noi patogeno cioè generatore di sofferenza d'accordo e che cosa fa altera i nostri equilibri interni e provoca disfunzioni tra fa venire la tosse le fa venire la polmonite non respiri più te viene 40 di febbre d'accordo che cosa è di fatto una alterazione degli equilibri del nostro organismo vogliamo continuare cioè qui possiamo continuare in eterno è non finiamo più cioè la terra gira intorno al sole ad un'orbita ben definita con un'inclinazione ben prestabilita in un tempo ben prestabilito cioè andate in giro su youtube guardate i video scienziati non soltanto non si serve se cattolici intelligenti ci dicono che noi sappiamo no che ogni quattro anni c'è un anno bisestile perché il giro intorno alla terra sono 365 giorni sei ore e qualche minuto adesso non mi ricordo una ventina di minuti quindi ogni quattro anni quei giorni diventano 366 d'accordo ma attenzione che questo giro così come il giro che la terra fa su se stessa e che determina il giorno e la notte tutti quanti equilibri perfettissimi ad una velocità ben definita d'accordo mi pare che la terra gira su se stessa noi stiamo girando adesso a circa 1800 all'ora eppure nessuno di noi ha un mal di testa no cioè tutte queste cose qui se si sgarrasse quindi se la velocità fosse differente succederebbe il finimondo d'accordo pensiamo anche a tutti quanti gli altri temi oggi molto politicamente corretti e molto alla moda no gli equilibri ecologici il surriscaldamento globale tutte quante queste cose qui no che cosa succede se tu alteri l'equilibrio perfettissimo del nostro pianeta succedono guai ok ora il peccato che cos'è il peccato è l'alterazione dell'equilibrio stabilito da dio fatto attraverso un atto di volontà questo equilibrio non è l'equilibrio fisico non è l'equilibrio biologico non è l'equilibrio ma è l'equilibrio lo chiamiamo spirituale lo chiamiamo morale lo chiamiamo psicologico d'accordo più che altro l'equilibrio diciamo così morale spirituale cosa succede quando una persona commette un peccato la stessa identica cosa degli esempi che ho fatto prima uscito fuori dall'equilibrio tu starei male tu sarai male anzitutto il primo che sta male stai tu e con la differenza che col peccato oltre che star male che stare male io il male prodotto la gente patogeno è contagioso altro del coronavirus altro che perché col coronavirus dicono gli espertissimi che se ti metti le mascherine i distanziamenti tutte le cose che si parla di memoria quest'anno e forse non ti contagi ah no 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 se una persona fa un peccato ah purtroppo il contagio è assicurato quindi l'onda di male scatenata da un solo peccato uno solo è oltre che a infettare chi lo commette colpisce anche fuori di sé poi che il destinatario sappia difendersi ossia immunizzato è un altro discorso ma di per sé l'atto è transitivo d'accordo quindi istantaneamente passa questo concetto bisogna metterselo noi in testa di più perché nella coscienza comune di tante persone compresi tanti battezzati il concetto di peccato è tutt'altro che chiaro cioè si pensa che ma forse ma non vado a messa la domenica vabbè non vado a messa la domenica poi tanto mi confesso ma che a volte pare che ma che sarà mai insomma no ma che che nella maggioranza del migliore delle nella migliore delle delle ipotesi quando qualcuno c'è un rudimento di coscienza diciamo così che il concetto di peccato oggi è limitato al concetto di reato tra l'altro reato secondo la costituzione quindi l'ordinamento giuridico di uno stato che è diventato laico d'accordo quindi alcune cose che un tempo erano reato qui non mi si venga a tacciare di niente perché basta prendere i codici penali e ci stanno ancora almeno quando ho studiato io il l'articolo che parlava del reato da adulterio del reato d'aborto poi c'era scritto articolo abrogato dalla legge fortuna che riforma il diritto della famiglia nel 1970 e introduce il divorzio per quanto riguarda l'adulterio per quanto riguarda l'aborto articolo abrogato dalla legge 194 del 78 che ha introdotto l'aborto eccetera eccetera no quindi e allora oggi il concetto di peccato uguale il concetto di reato cioè se io ammazzo qualcuno ma deve essere una un assassino cruento d'accordo sì quello se rubo poi c'è deve essere una ruberia un po particolare forse sì d'accordo ma infatti lo slogan comune i poveri preti che stanno in confessionale sono abituati insomma purtroppo a sentire queste cose a padre non faccio niente di male non ammazzo e non rubo d'accordo quindi penso che finito l'ammazzare e rubare tutto il resto è del tutto normale è del tutto lecito attenzione che la cosa grave dice a bene più dodicesimo che la stragrande maggioranza delle persone non si rende minimamente conto adesso in questa puntata vedremo perché ecco non si rende minimamente conto attenzione teniamo subito presente una cosa il fatto che uno non si renda minimamente conto che quello che fa è oggettivamente male cominciamo a familiarizzarci con questi termini è oggettivamente sbagliato male perché il bene e il male non sono realtà soggettive non lo decido io io devo stare ad un ordine non decido io se 37 è la temperatura corporea del mio corpo non lo decido io d'accordo non la decido io la legge di gravitazione che vinge sul pianeta terra d'accordo se io vado sulla torre eiffel e mi sporco e mi lancio di sotto e dico no no a me non mi succede niente mio mi sporco da da 400 metri dalla torre eiffel e rimango qui vai accomodati decidi tu vai decidi tu vai accomodati buttare dalla torre eiffel poi vedi che succede cioè ci sono alcune cose l'oggettività significa che non è una cosa che dipende da me quello che dipende da me è riconoscere come stanno le cose cioè io riconosco che 37 è il grado di temperatura regolare del mio organismo e cerco di mantenerla a quei livelli d'accordo io riconosco che c'è la legge di gravitazione e quindi dalla torre eiffel non mi butto di sotto perché se mi butto di sotto mi spacco la testa e moro sicuro al 100 per cento d'accordo ah ma io voglio farmi una bella esperienza voglio fare un giorno da delfino me ne vado in mezzo al mare sotto l'acqua senza bombola dell'ossigeno perché oggi mi sento voglio fare un giorno da delfino vuoi fare un giorno da delfino vai se torni a casa cioè racconta io sono prima stata sentì capito cioè torniamo il male è una cosa oggettiva il fatto che chi lo commette non se ne renda conto e qui sto già citando il grande san giovanni paolo secondo nella sua spettacolare enciclica verità di splendor mai sufficientemente valorizzata il fatto che tu non te ne rendi conto non toglie che quell'azione continua a produrre male attenzione a te e fuori di te e il male prodotto dal peccato una devastazione perché la sana dottrina cattolica ferma e anche qui voglio proprio vedere in quanti ci crediamo e uso il plurale apposta perché parlo anche di preti e parlo pure di vescovi perché siamo tutti quanti dentro la stessa barca noi oggi siamo moderni noi oggi siamo contemporanei una persona ha degli squilibri psichici e subito comincia a pensare di che andava da qualche psichiatra da qualche psicologo per carità è necessario anche questo d'accordo perché ci sono alcune situazioni io stesso me ne sono trovate dinanzi che sono arrivati ad un livello assolutamente ingestibile ma attenzione è tutto qui o noi sappiamo che c'è una causa profonda c'è un generatore del male che oggi è peggio di un reattore impazzito peggio di chernobyl d'accordo altro che le radiazioni dell'esplosione di di chernobyl perché oggi i peccati se ne fanno a valanga e uno nessuno li confessa quindi non vengono distrutti vedremo quando parleremo della della confessione cioè tu se fai un peccato lanci una bomba quella bomba deve essere disinnescata se no il male che farà è devastante ma il disinnesco di quella bomba avviene soltanto in confessionale se tu non sei manco consapevole che hai innescato e lanciato una bomba figuriamoci succede il finimondo succede noi crediamo noi cattolici aprite il catechismo è apriamo il catechismo queste non c'è la fede non sono chiacchiere non sono illusioni storie favolette inventate best affa non si sa manco bene cosa ok noi crediamo che tutti i mali che noi conosciamo sulla terra cioè fisici psichici morali e spirituali tutti coronavirus il coronavirus da dove viene quella radice remota del coronavirus il peccato dell'uomo io non ho paura a dire queste cose perché stanno chiedendo il catechismo qual è la radice ultima di tante nevrosi che le persone si portano dietro di tante turbe psichiche fragilità psicologiche depressioni angosce stati d'anzi uno è una è la causa profonda ripeto ripeto ho detto all'inizio di questo ciclo di catechesi che sarei stato pedante non specificare alcune cose perché sapeste quante volte mi sono trovato in ansia travisamenti del senso di quello che dovevo dire e che volevo dire perché magari nella foga della giovinezza non sono stato attento a dire sta attento però specifica sta cosa perché se ti sente uno che capisce figlio fischio per fiasco capisce fischio per fiasco allora non sto dicendo che non bisogna curarsi dalle malattie d'accordo ok adesso ci sta il coronavirus dipende dal peccato andiamo a fare tutti quanti una super confessione e finisce tutto questi sarebbero discorsi insomma da da persone che hanno qualche problema no ecco d'accordo o che in presenza di un male non si debba intervenire qui stiamo su un livello più profondo d'accordo più profondo la fede arriva a quella che in filosofia si chiamano le cause ultime non le cause prossime la causa prossima dello scoppio di una pandemia per esempio è che sto virus che tra l'altro sta manco bene da dove uscito fuori si diffonde comincia a contagiare le persone quindi rimedi e modi per tamponare modi per prevenire modi per curare ok qui sono tutte quante cause prossime d'accordo che va bene che se non fa per forza non è che non è che andare alle radici ultime prescinde dall'affrontare poi le problematiche contingenti che devono comunque essere affrontate ma attenzione però vogliamo che il mondo continua andare sempre più a rotoli o almeno nel nostro piccolo vogliamo farci qualcosa e come si fa a farci qualcosa ecco dopo questa questo questo scursus se avremmo capito bene potremo capire che noi possiamo fare già un bel gran regalo all'umanità d'accordo e fare una grande lotta al coronavirus smettendo di peccare ho uscito sempre il coronavirus perché non voglio non sono una cioè è tanto per come dire toccare un argomento di attualità sensibile no allora smetti allora come come è successo che si è perso il senso del peccato come si perde il senso del peccato e dove è il senso del peccato facciamo uno step di nuovo indietro andiamo a vedere un attimino che è successo con la bibbia con la rivelazione perché nostro signore intelligente è molto intelligente e se fa certe cose non le fa così tanto per farle le fa perché c'è un preciso motivo nella puntata precedente abbiamo visto quello che è il peccato originale non vi dico qui c'è certe situazioni insomma che ribadisco che quello che abbiamo visto nella puntata precedente è una ipotesi teologica su cui c'è piena libertà di esprimersi pienissima perché non c'è nessuna condanna da parte di nessuno d'accordo quindi quando una cosa non è definita pur rimanendo nell'umiltà nella carità ognuno è libero di dire la propria d'accordo uno può essere d'accordo o non d'accordo d'accordo non sulla sostanza sugli accidenti quindi sulle specificazioni si è uno è perfettamente libero d'accordo io ho presentato una ipotesi gli argomenti a favore le autorità che la sostengono le motivazioni che la rendono ragionevole i problemi che si spiegano ammettendola come valida e basta non ti piace non c'è tranquillo capito quello era come dire è ho specificato qui stiamo dentro un ambito certamente stiamo dentro l'ottina cattolica però perché le fonti che ho citato sono la stragrande maggioranza dottori teologi e santi volutamente ho lasciato agli ultimi cinque minuti maria valtorta perché non si venga poi a dire a questo va presso a maria valtorta che è una mistica neanche ancora canonizzata e poi chiacchierata e discussa perché maria valtorta non fa altro che come dire dare forma sistematica a tutto quanto era già stato ampiamente detto in teologia e in dottrina cattolica quindi non aggiunge niente di più da una presentazione organica di tutto quanto questo materiale basta d'accordo quindi se uno è non credo a maria valtorta non gli piace maria valtorta dimentichi gli ultimi cinque minuti e pensi su quello che ho detto prima d'accordo ok però ripeto anche qui è ad abbondanza allora stiamo facendo uno step cosa ha fatto nostro signore abbiamo parlato del peccato originale abbiamo visto che questa è dottrina cattolica che l'uomo era uscito da dio perfetto non come ci insegnano oggi d'accordo che si sa come uscito stuomo dopo milioni forse di anni di un processo evolutivo che è passato da scimmie da lusi eccetera eccetera e poi si passa per centomila cose poi esce l'uomo questa si ricordi e questo c'è proprio possono parlare quanto vogliono basta leggere e basta vedersi i video di fior di scienziati cattolici tra cui antonino zichichi queste sono soltanto teorie non dimostrate sono ipotesi anche queste solo che mentre quando io parlo di un ipotesi teologico dico questa ipotesi questi ripresentano come dogmi di fede assoluti e come verità incontrovertibili e scientificamente dimostrate tutte e due sono non è che sono l'uno o l'altro tutto tutto capito è certo che sia così punto e basta non sta scritto da nessuna parte ognuno poi anche su questo è libero di pensare di riflettere e di porsi fermo restando che deve rimanere dentro la dottrina cattolica l'ottrina cattolica insegna che da un uomo da un uomo è stato commesso come progenitore il peccato originale che si trasmette per propagazione attraverso l'atto della generazione a seguito di quest'atto inizia un processo questi sono libri della genesi dopo il terzo di progressiva degenerazione della razza umana cioè la bibbia non racconta un processo di evoluzione cioè si parte da un imperfetto per arrivare a una perfezione ma è esattamente il contrario cioè si parte da una perfezione uscita da dio per arrivare alla vetta all'abice del male che è il diruvio universale il diruvio universale circa 2000 anni fa 2000 anni dopo la creazione nella cronologia biblica ci abbiamo ad amo dopo circa 2000 anni il diruvio universale dopo altri 2000 anni arriva Gesù Cristo quindi così è la situazione quindi c'è un processo che va dal perfetto alla alla degradazione una degradazione talmente irrecuperabile che io devo dire adesso dobbiamo fare il reset facciamo un bel reset terminologia moderna azzeriamo d'accordo mettiamoci punto e ripartiamo dopo averci messo punto una perversione giunta a livelli inimmaginabili capito c'è stato qualche autore io già ho letto qualcosa eh autori cattolici devo approfondirli quindi non sono ancora in grado di rendere ragione ma io ci avevo già pensato che sostengono che quelle forme attestate in qualche modo anche da certi fossili di mostri che si capisce bene che sono se sono esseri umani o miniti o cose di questo genere potrebbero derivare da forme strane di ibridazioni che potrebbero essere sto usando volutamente i condizionali anche queste sono ipotesi come dire forme di attestazione del tasso di degradazione capito con 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 mostri naturali come dire realizzati attraverso delle 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 condotte indicibili ma il libro della genesi dice a un certo punto che dio usando termini antropomorfici si pentì di aver creato l'uomo tanto in basso era arrivato tanto grande era la corruzione reset dopo il reset che succede dopo il reset arriva abramo si passa per l'episodio della torre di babbele perché ancora la lezione non era ancora bastata e dopo arriva abramo comincia una storia abramo isacco giacobbe israele scende in egitto mosè la grande liberazione e poi si arriva ai dieci comandamenti al tappo fondamentale il monte sinai torniamo al vangelo di ieri che è stata messa ieri la legge fu data per mezzo di mosè attenzione la grazia e la verità vennero per mezzo di cristo quindi che cosa succede l'uomo perde la testa dio fa un reset quindi a un certo punto c'è un punto comincia un cammino c'è un cammino che parte da abramo e arriva fino all'esodo a un certo punto arriva la legge i dieci comandamenti dopo un tempo di vigenza dei dieci comandamenti arriva la grazia della redenzione la grazia la verità vennero per mezzo di gesù cristo allora c'è che me stai a fatto questo discorso non ha moto lo spiego moto lo spiego come dicono allora allora l'uomo quando non c'ha la fede agisce all'impazzata come un pazzo d'accordo come una persona completamente ragione cioè il ragionevole non sa più a che santo votarsi la coscienza adesso parleremo della coscienza fosse già questa sera che dovrebbe essere il luogo dove noi sentiamo l'imperativo morale sentiamo la voce di dio fai questo e non fare quest'altro questa cosa è brutta non la dovresti fare quest'altra è bella falla questa si può imbarbarire si può intorpidire perché questa subisce i condizionamenti dell'ambiente culturale in cui noi stiamo inevitabilmente cioè voi mi dite oggi come fanno le coscienze di molti cattolici ad avere il senso del peccato se il catechismo è stato fatto all'acqua di rose d'accordo qui io parlo da prete anche nella nostra diocese stiamo cercando di reinventarci dei percorsi catechetici adeguati perché qui si fa acqua da tutte le parti ok i catechismi degli ultimi anni sono stati fallimentari un'ora a settimana contro il bombardamento noi so quasi 50 anni che stiamo a combattere contro la televisione la televisione cioè la televisione è una bomba atomica cioè ma oggi i ragazzini o le famiglie formati sui talk show che girano adesso sui reality show d'accordo su questo mondo d'accordo su questo mondo proprio c'è c'è stato mio confratello mi hanno riferito che ha scritto un articolo terrificante facendo anche nome e cognomi io insomma me ne guardo sempre sulla diseducatività dei programmi che la stragrande maggioranza degli italiani e se si risente tranquillamente senza nessun tipo di di problemi i quotidiani talk show cioè quella è tutta quanta roba che arriva 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 e tu cominci a pensare così tu cominci a pensare così allora dove è formata la nostra coscienza la coscienza che noi abbiamo è come dire ci rimane sempre una scintilla ma ascoltare quella scintilla richiede un'operazione che gli uomini di oggi non fanno che il silenzio interiore questa scintilla perché diventi un fuoco quindi una fiamma che capace di dare la luce deve essere alimentata deve essere indirizzata deve essere formata allora cosa ha fatto nostro signore che cosa succede quando è che si riacquisisce il senso del peccato ve lo dico io e c'ho esperienza insomma di decine di casi di questo genere un uomo vive sregolatamente arriva a un certo punto che succede qualche cosa di grosso succede un dirubio universale ok succede qualche cosa che veramente segna profondamente proprio una botta d'accordo quella persona si ferma e dio la chiama come chiamata bravo 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 poi risponde dice eccomi adesso cominciamo adesso cominciamo a fa come dico io cominciamo un cammino cominciamo un bel cammino hai visto anche qui il vangelo di oggi dove andiamo non ti preoccupa non ti fa che hai fatto nella vita tu hai fatto tutti questi macelli adesso adesso fidate di me non te lo dico dove andiamo comincia a camminare d'accordo cosa dice gesù ai primi discepoli maestro dove abiti vangelo di oggi è come il signore che accompagna venite vedrete non glielo dice d'accordo tu che hai fatto hai voluto fare testa tua di sei lontano da me ti ho lasciato fare no che hai fatto che hai raccolto disastri bene adesso ti fidi di me io rispetterò la tua libertà non ti farò fare passi che tu non voglia fare ma ti devi fidare di me ok cominciamo un cammino e in quel cammino arriva anche un pochino arrivano un po di cose belle insomma no ad abramo arriva isacco e mosè c'ha la teofania c'ha l'incontro col signore la pasqua la liberazione dall'egitto quindi il signore comincia a farti vedere che vale la pena fidarsi di lui questi sono i primi passi del nostro cammino dopodiché arriva la legge e che cos'è la legge la legge è il confronto che tu devi avere con la verità oggettiva allora tu già riavvicinando di al signore sicuramente ti sei accorto che tante cose avvenute prima del diluvio capiamo la metafora che sto facendo quindi quando la tua vita andava a arrotoli cioè già hai capito che tante di quelle cose bisogna metterle d'accordo ma adesso cominciamo a focalizzare proprio bene quindi ci stanno queste dieci parole ok dieci che poi il nuovo testamento un pochino lo vedremo amplia e dilata o specifica meglio e da queste dieci parole non ti devi muovere se vuoi stare dentro l'ambito del bene se non vuoi lanciare in bombe già innescate che esploderanno ok e lì poi c'è il secondo step successivo la accetti tu la legge o non accetti la rifiuti la riconosci come vera lasci che questa legge perché se voi vedete il concilio vaticano primo anche dieci comandamenti sono l'espressione di quella che si chiama tecnicamente la legge naturale cioè a quello che sta scritto nei dieci comandamenti che è come l'esistenza di dio tu ci potresti arrivare pure da solo se fossi capace tu arriveresti da solo ad ammettere l'esistenza di un dio se fossi capace a far funzionare bene il cervello abbiamo già visto questo nelle puntate precedenti perché non ci vuole einstein per capire che dietro alcune cose che ho detto all'inizio di questo di questa puntata tipo il giro della terra intorno al sole cioè ma il giro della terra intorno al sole è un fatto casuale ma che che ci risulta che qualche astro qualche cosa del genere ci abbia un'intelligenza che sia capace di stabilire con tale precisione quei numeri ma ma chi ne vogliamo andare a contare a queste cose io quando vedo certi documentari dico ma ma dico ma ma la gente gli è da retta queste dovrebbero essere cose razionalmente convincenti ma chi a meno che convincono per niente non come persona di fede o come prete ma come essere umano ma chi lo vieni a dire che una cosa così perfetta qualcuno non c'è deve essere qualcuno che l'ha che l'ha fatta ma io quando avevo dei miei ragazzini il catechismo che cominciano a dire che a scuola mi hanno detto che viene tutto dal caso che noi veniamo dalle scimmie dico sì ti piace l'iPhone a bello 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 l'iPhone te lo dico io quello lì guarda quello quello si fa da solo procura un po' di un po' di feri un po' di qualcosa un po' di plastica falli un po' così con le mani e hai fatto l'iPhone tranquillo vai che problema c'è si fa da solo quello là no se si è fatto da solo un universo figura dell'iPhone che ci vuole ma capito cioè e questi sarebbero i discorsi scientifici le cose ammantati ma vabbè forse sarò stupido io nel senso per carità ma ho detto che nella Bibbia lo stupido dice che Dio non esiste non l'ateo l'abbiamo già visto lo stupido dice che Dio non esiste e il concilio Vaticano ha detto che è un dogma di fede un dogma di fede che l'essere umano può arrivare con certezza a conoscere che un Dio deve esistere non che quel Dio sia Trino non che Gesù Cristo sia Dio ma l'esistenza del famoso essere supremo dei filosofi ma è cosa che se una persona fa funzionare il cervello non può non ammettere chiaro ora i dieci comandamenti e qui cominciamo anche a introdurre il tema della coscienza cosa sono un aiuto ma la verità dei dieci comandamenti tu la troverai dentro di te perché l'ordine morale Dio l'ha scritto dentro il tuo cuore una parentesi triste penso che io io no perché soltanto ho visto qualche immagine in giro perché non amo stare a guardare a perdere tempo con tante cose ho visto qualche immagine delle grandi feste che sono state fatte in argentina da tante povere mie figliole e nostre sorelle perché è stata approvata la legge dell'aborto belle contente felici quale grande conquista eccetera eccetera tutte queste sorelline se fossero capaci di stare un pochino in silenzio di mettersi davanti a Dio e farsi alcune domande ma proprio facili facili no a prescindere dalle possibili tragedie che possano esistere su questo argomento che sono poi stati classici argomenti i casi limite con cui hanno fatto entrare anche l'aborto in italia no la persona violentata la persona stuprata le persone che sono assoggettate dai maschi per cui fanno i figli senza il loro consenso queste cose qui che sono comunque delle cose orribili d'accordo ingiustificabili ok ma può essere una cosa di cui fare la festa il fatto che sia concesso ad una creatura di sbarazzarsi dell'essere più indifeso di questo mondo senza costi e senza nessuna conseguenza come se fosse un impiccio ma io dico figlia mia figlio mio mettiti in silenzio non ti voglio imporre niente a nessuno per carità tu pensi che questo sia un diritto ma pensa quello che te pare d'accordo ma fammi una cortesia fammi una cortesia mettiti un attimo tranquillo ma questa è una cosa bella è una cosa di cui rallegrarsi di cui fare la festa capite no e perché si fa la festa per queste cose non dobbiamo semplicemente biasimare dire brutti disgraziati per carità per carità d'accordo ma come si è potuto arrivare a questo noi dobbiamo porci sempre le domande come come si è potuto arrivare a un tale grado capite perché se una persona fosse capace di ascoltare la voce di dio perché questi di questo si tratta che parla nel cuore ma nessuno approverebbe una cosa del genere non ci sarebbero le leggi non ci sarebbero tutte quante le persone che vediamo convinte nelle battaglie che fanno e loro pensano anche di crederci magari qualcuno sta pure in buona fede sono persone che anche se non te lo vengono a dire anche se forse non si vede anche se stappano lo champagne e fanno i sorrisi a 32 denti hanno la morte nel cuore sono morte nel cuore non sono persone serene non sono persone felici non sono persone in sintonia con se stessi abbiamo celebrato da poco il natale se una persona vuole trovare la pace c'è soltanto una cosa da fare smetti di peccare anche da un punto di vista oggettivo se tu fai queste cose tu la pace non la troverai mai sai che significa mai mai la gioia non la troverai mai troverai l'inferno un prete sa bene molto bene purtroppo che una donna che rientra in se stessa e sa di aver fatto una cosa di questo genere di aver ucciso nel proprio grembo un essere innocente io mi fermo qui non dico altro d'accordo per quanto la confessione la confessione lo porta per tutta la vita ma perché perché la sua coscienza le urla le rimorde non necessariamente non è che dubita della della misericordia di dio non non si può giudicare una persona diciamo a quella ma non ci crede ci crede ma una cosa del genere io non sono una donna d'accordo non ho non so neanche cosa sia il dono della madre io sono un uomo posso immaginarlo no ma nella psicologia di una di una donna cioè sapere che tu hai soppresso una vita che c'era dentro di te affidata completamente a te in quel modo anche un po vigliacco capito nel senso che entri in una sala operatoria non ti accorgi da niente esci il problema è risolto io quello che posso testimoniare quello che poi si vede d'accordo ma attenzione questo è vissuto anche da quelle persone che ostentano ah io sono andato io non ho fatti questo io no questa è una conquista a me non me ne importa niente l'utero è mio lo giustisco cioè sono persone che si sono talmente tanto costruite delle sovrastrutture mentali d'accordo che però in quei rari momenti in cui il nostro signore per parlare al loro cuore li mette un attimo dice fermate un attimo asco pensa no io non penso niente non penso nessuno questo per carità e qui siamo nel 2000 e che torniamo indietro allora vedete perché cioè è la perdita del senso del peccato è sempre conseguenza della perdita della capacità di fare silenzio chi di noi è capace di tornare su noi stessi ma io adesso non cioè quello che cerco sempre di fare personalmente adesso in questo momento del mio sacerdozio in passato non è stato sempre così in passato io molte volte tendevo a come dire presentare in maniera ferma decisa precisa puntuale tagliente anche la legge è questa una sorta di cazzotto nello stomaco che per carità in certe circostanze ci può anche stare questa è una cosa che va bene fino a un certo punto perché migliore è il servizio che fa un sacerdote se non presenta semplicemente la cosa ma stimola la coscienza la stimola ad arrivarci da sola perché una volta che la coscienza arriva a questo e ha orrore di quello che è il male come deve avere quel peccato non commetterà più se prende un cazzotto nello stomaco se spaventa magari ottio me ne vado all'inferno fa manna confessare ma tra due mesi potrebbe rifarlo ammesso che ti ascolti perché qualcuno domanda quel paese subito subito ma se la persona riflette interiorizza quel peccato lo lascia non lo fa più non lo fa più ecco perché san giovanni nella lettera di questa sera scrive chiunque è nato da dio non pecca chi pecca non l'ha mai visto né conosciuto chi pecca non l'ha mai visto né conosciuto allora come si fa a riacquisire il senso del peccato allora numero uno bisogna imparare a fare silenzio numero due a mettere in discussione le nostre super come chi te l'ha detto quella cosa non è peccato chi te l'ha detto noi siamo sempre subito sulla sulla difensiva arriva un certo momento in cui il nostro signore quello che è peccato quello non è peccato te lo dice come io su questo insomma ho acquisito un'esperienza indifferente perché poi dici comandamenti te li dice se tu sei ben disposto scoprirai che quelle dieci parole ce le hai scritte nel cuore quindi ti vengono semplicemente precisate ed esplicitate se tu c'è il cuore chiuso le rifiuti e continua a rimanere nel peccato attenzione abbiamo detto alcune cose abbiamo detto che il peccato è una bomba atomica quindi è una fabbrica è la peccato della fabbrica del male è la fabbrica di ogni male non solo del male ma non finisce qui perché san giovanni sempre questa sera nelle sue lettere dice che chi commette il peccato viene dal diavolo perché il diavolo è peccatore fin dal principio al termine della puntata di questa sera capiremo anche come mai che si va all'inferno perché molta gente sta serena e tranquilla perché dice l'inferno ma figurate se esiste l'inferno ma dio è buono ma dio è misericordioso ma gesù cristo è morto in croce ti pare che lui permetterà che qualcuno vada all'inferno figurati come l'ha descritto tanto alighieri o certa tradizione medievale o cura oscurantista con le pene dei dannati con le urla con le cose se ma che è sta roba qui queste sono fantasie queste qui sono fole sono stupidaggini inventate nel periodo scuro medievale per tenere soggiogata la gente siamo sicuri che è così bene san giovanni ci ha detto che chi commette il peccato viene dal diavolo gesù nel vangelo dice che chi commette il peccato è schiavo del peccato e san pietro aggiunge nelle sue lettere che uno è schiavo di colui che l'ha vinto attenzione ci siamo quasi ve lo dico alla romana perché ci manca poco e poi abbiamo finito l'ultimo concetto di stasera abbiamo visto che il peccato originale non è che se lo sono inventati l'uomo e la donna non ci hanno tutta questa grande fantasia sono stati aizzati sono stati provocati la loro caduta è stata una sconfitta hanno perso una battaglia e qual è la conseguenza della perdita di quella di quella battaglia qual è se possono dire parolacce ma qua qual è qual è è la schiavitù del genere umano una volta quando si combattevano le guerre penso che lo sappiamo tutti quanti no tu prendevi le guerre tu dovevi conquistare una città mazzati un sacco di gente conquistavi la città i prigionieri che cosa succedeva i prigionieri diventavano schiavi diventati schiavo cioè proprio come cioè io ho studiato il diritto romano scusatemi se faccio insomma cioè come come si diventa schiavi o schiavi o schiavo ci nasci d'accordo perché sei figlio di schiavi oppure ci diventi perché perché io che sono romano vengo in traccia faccio la guerra conquisto la traccia e mi porto i prigionieri e quelli che vanno a vendere al campo degli schiavi quelli sono schiavi sono perché sono miei io li ho vinti appartengono a me d'accordo sono miei allora quando tu commetti un peccato grave avviene quello che i romani chiamavano l'addizio non è l'addizio l'addizio significa che c'è la consegna cioè le grinfie del diavolo ecco perché san giovanni dice chi commette il peccato viene dal diavolo allora commettere un peccato significa cedere al combattimento che il diavolo fa contro di te per la tua perdizione lui vuole la tua anima ok ti mette le grinfie addosso e basta un solo peccato grave per cui tu cadi nella sua schiavitù attenzione che da quella schiavitù tu non ti potrai liberare uno schiavo non si poteva liberare da solo ci doveva essere qualcuno che comprava pagando un prezzo la sua libertà ma guardate che quello che ha fatto nostro signore gesù cristo con la redenzione è esattamente questo redenzione in greco apoliutrosis è versare il prezzo del riscatto questo è il sangue della nuova alleanza per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti a chi al padre come prezzo del nostro riscatto perché satana ci teneva in suo potere si nasce col peccato originale cioè schiavi di satana come diceva padre pio tu commetti un peccato mortale ritorni come prima e chi è che va all'inferno non è tanto difficile capire chi va all'inferno dentro questo orizzonte chi muore insegna la chiesa il catechismo in stato di peccato mortale senza essersi pentito se tu commetti un peccato mortale la tua anima appartiene al diavolo tu sei suo schiavo tu schiavo di chi io non sono schiavo di nessuno allora anche qui ritorniamo al discorso di prima d'accordo c'ho 39 di febbre allora sto benissimo se tu commetti un peccato mortale figlio e figlia mia tu sei schiavo di satana questo te lo dico proprio papale papale cadi nelle sue mani fino a quando non vai a farti sciogliere dalle catene e questo si fa attraverso il sacramento della confessione dove il sangue di cristo ti si versa sopra e spezza quelle catene e ti libera dal tuo maledetto padrone e tu rimani sotto di lui e se muori in quello stato non è che dio ti manda all'inferno il diavolo si prende quello che è già suo ed è suo per conquista militare e il signore permette questa cosa lui non la vuole per cui lui potrebbe portarsi in paradiso perché è giusto che sia così perché a nessuno è stato dato il permesso di peccare Gesù è venuto te l'ha spiegato qual è il bene te l'ha spiegato qual è il male e ti ha dato anche la possibilità se è venuto nel male io sto sempre con le braccia spalancate sto sempre ad accoglierti ma devi venire perché il bene e il male sono due cose oggettive capito? questa cosa non la può cambiare nessuno possono fare tutte le leggi che vogliono capito? che uccidere un essere umano innocente questo lo disse con coraggio San Giovanni Paolo II è una cosa grave agli occhi di Dio può anche darsi che in tutto il mondo legittimino civilmente il delitto dell'aborto sempre male rimarrà capito? il male è una cosa intrinsecamente tale nessuno può far diventare buona una cosa cattiva o cattiva una cosa buona questo ce lo dobbiamo mettere in testa capito? le le follie degli ordinamenti giuridici attuali sono stati questi pazzi capito? l'uomo che si mette al di sopra di Dio dice no no quello che è bene è quello che è meno lo decido io lo decido te no state zitto cioè voi chiesa in sacrestia non dateci fastidio non seccateci d'accordo? lo decidiamo noi d'accordo? lo decidiamo noi i te ma tu puoi fare tutte quante le leggi che vuoi d'accordo? cioè quelle leggi possono rendere non punibile da un punto di vista penale una persona e vabbè d'accordo? ci si può fare niente ma non cambiano il male intrinseco di una cosa capito? capito? non c'è puoi fare tutte le leggi che te pare capito? questo noi ce lo dobbiamo mettere bene in testa e chiunque faccia quella cosa anche se sta tutto tronfio perché è spalleggiato dalla legge si porterà nel cuore la morte e morte seminerà morte spieghiamo d'accordo? non necessariamente morte fisica ma la morte dell'anima la morte ontologica la morte la disperazione credetemi io sono un povero parroco e quindi che cerco di farlo sempre cerco di farlo il parroco e il nostro signore mi ha dato per i suoi strani misteri anche la grazia di poter conoscere tante anime provenienti da tante parti da tanti posti d'Italia io la chiamo scherzando la parrocchia spirituale che è sempre subordinata a quella reale e questo senza che nessuno soffra di gelosia ma qui il vescovo mi ci ha mandato con la missio canonica quindi io dico sempre scherzando prima i parrocchiani e poi tutto il resto e lo dico contento e so che tutti capiranno però questa esperienza cioè ti consente anche capito di capire che tutto il mondo è paese se tu ci sai io sono stato in una città provinciale latina in un piccolo paesino sperduto tra i monti lepini sì un bellissimo borgo medievale ma una realtà a Milano a Torino a Bologna a Trento a Udine a Taranto in Sicilia in Calabria in Campania la situazione è sempre la stessa l'uomo è sempre lo stesso ok quindi noi dentro questo contesto storico culturale noi dobbiamo fare tutti quanti un reset tutti quanti perché attenzione anche le persone più buone più buone d'animo non possono pensare di aver camminato 20-30 anni dentro questo mare magnum di ultra neopaganissimo d'accordo peggiore dell'antico così e da un orecchia è entrata dall'altra riuscita no non è così non è così figlio mio purtroppo non è così quindi tocca che tutti quanti ci mettiamo in testa di fare una bella un bel itinerario di conversione perché tante cose dobbiamo riappropriarci tutti nessuno escluso tutti eh fedeli preti frati suore vescovi tutti tutti quanti d'accordo tutti quanti in cammino verso la riscoperta o verso come dire il rafforzamento di ciò che la santa dottrina cattolica ci insegna il tema del peccato così come quello del peccato originale sono assolutamente fondanti perché sono l'essenza cioè tante altre cose che il cristianesimo ha e fa sono importanti ma sono secondarie rispetto a questo Gesù significa Yahweh salva quando quando l'angelo dice a San Giuseppe devi chiamarlo Gesù perché egli salverà il suo popolo dai peccati Gesù è venuto per questo Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo ci ha detto oggi San Giovanni le opere del diavolo sono i peccati ok solo questo sa fare il diavolo il diavolo non sa fare altro sa fare solo questo bene ci vediamo e ci sentiamo se Dio vuole la prossima settimana per proseguire ovviamente questo tema la mia benedizione su tutti per chi ha seguito la diretta una santa notte a presto Ave Maria Grazie a tutti